buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di pano tv oggi è mercoledì 14 agosto 2024 e dobbiamo dire che in previsione del feragosto i giornali questa mattina sono pieni di notizie che riguardano musica che riguardano gastronomia che riguardano le feste insomma tutto quello che serve per passare una bella vacanza sia i residenti che coloro che vengono da altre località che vengono a passare il feragosto nelle nostre coste vedremo dunque quali sono le iniziative che si svolgono non solo a pano ma a pesaro e anche nei centri dell'entroterra ma come sempre passiamo attraverso l'almanacco del giorno per vedere chi si festeggia oggi ed eccolo il santo di oggi non guardate il suo cipiglio era un uomo semplice un uomo serafico un uomo che ha dato la sua vita per salvare un'altra persona e padre massimiliano maria colbe è stato un eroe un eroe frate francescano che diede appunto alla sua vita per salvare un padre di famiglia nel campo di concentramento di auschwitz era il 14 agosto 1941 il regolamento atroce di quel campo prescriveva che se ci fosse stata una fuga dieci prigionieri sarebbero stati rinchiusi per poi farli morire di fame ebbene tra questi c'era un padre di famiglia al momento della scelta l'uomo invocò addio addio ai miei figli addio mia moglie commosso da quell'invocazione padre colbe si offerse all'ufficiale nazista dicendo voglio andare io al suo posto e l'ufficiale come se niente fosse accettò questo sacrificio ebbene padre colbe fu rinchiuso con altre persone in quella cella eppure dopo tanti giorni non morì e alla fine fu ucciso con una iniezione fetale una iniezione scusate letale abbiate pazienza letale con acido fenico che appunto gli procurò la morte è stato santificato da papa huaitila questo è san massimiliano maria colbe vediamo ora le previsioni del tempo caldo ancora caldo caldo ancora caldo e affa non mollano la presa nelle marche da segnalare però la formazione di locali temporali pomeridiani nelle aree interne modo particolare nelle aree collinari della provincia di pesaro urbino i venti sulle coste ispireranno con una tensione media da est nell'interno da sud sud ovest le temperature molto alta la minima 25 gradi la massima arriverà 34 35 il mare è calmo il sole è sorto alle 6.09 e tramonterà alle 20.15 e allora adesso pensiamo al ferragosto apriamo i giornali ci sono prese di posizione dicevo tante tante le iniziative di tipo culturale di tipo festaiolo che si svolgeranno in questa festività vediamo comunque la pagina di fano del corriere driatico che è tornato in edicola dopo la defiance di ieri ieri il corriere non era insomma non è stato stampato quindi non c'era in edicola vediamo questa bella iniziativa che si è svolta lunedì in tutta la giornata di lunedì culminando lunedì sera nel ex anfiteatro Rastat con una rievocazione della giornata del 12 agosto 1984 quando papa Uoetila venne a Fano a visitare a conoscere i pescatori Uoetila tra i pescatori fanesi eterne emozioni e memorie oltre 700 persone sono intervenute al ricordo della visita del papa testimoni e immagini inedite soprattutto insomma c'è stata anche la sorpresa di far vedere al pubblico la sedia in cui si è seduto il papa durante la cena che è stata così organizzata allestita sulla banchina del porto per oltre mille persone insomma è stato veramente un incontro molto molto ravvicinato del papa con la gente e quella sedia finita la cena è stata subito prelevata perché insomma è una testimonianza preziosa che è stata conservata in tutto questo tempo dalla confraternita del suffragio e l'ha mostrata proprio il priore Carlino Bertini le altre testimonianze sono state fornite dall'allora assessore Renzo Rovinelli che si occupò per l'amministrazione comunale di tutto il sistema della sicurezza pensate che il papa era stato oggetto dell'attentato in piazza a San Pietro tre anni prima e quindi la sicurezza era veramente una cosa molto molto accurata che doveva appunto preservare la vita del papa altre testimonianze da parte di Gianfranco Ghiandoni capitano del Cigalin il peschereccio che portò il papa dalla Sassone al porto e poi ancora dal giovane allora Paolo Bragagna che di fronte al pontefice lesse un brano di benvenuto un brano con parole semplici che diceva padre buono noi ti vogliamo bene insomma una frase semplice che però diceva tutto ed era l'abbraccio della comunità fanese al pontefice dunque Waitila tra i pescatori fanesi eterne emozioni e l'addio e l'arrivederci anzi è per il cinquantesimo anniversario tra dieci anni vedremo che cosa accadrà l'altra notizia l'altra notizia che viene evidenziata con grande rilievo dai giornali questa mattina è un appello un appello protesta però dobbiamo dire perché c'è anche una sorta di rivendicazione che è stata elevata da un gruppo di cittadini un gruppo rappresentativo di cittadini in ordine a quanto sta accadendo in piazza Andrea Costa lì si sta ristrutturando tutta la piazza si dovrebbe dare un nuovo arredo però è un'occasione unica per scoprire cosa c'è sotto quella piazza siamo nel cuore della città anche nel cuore dell'antica Fano Fortunae e sotto piazza Andrea Costa si cela ancora la Fano Romana ebbene gli scavi archeologici che sono stati sì compiuti si fermano però ad una quota considerata insufficiente e l'appello è stato lanciato inizialmente dall'archeologo fanese Gabriele Baldelli che è stato poi anche al servizio della sovrintendenza di Ancona Baldelli dice quella è un'occasione unica che non si ripeterà se non magari tra 100, 400, 500 anni è un'occasione unica per sfruttare, per vedere che cosa c'è sotto piazza Andrea Costa abbiamo a disposizione un'area grandissima su cui fare gli scavi ebbene non siamo prigionieri delle esigenze dei commercianti cerchiamo di soddisfare anche loro ma non perdiamo l'occasione di andare a fondo con gli scavi per vedere che cosa si cela sotto piazza Andrea Costa siamo a due passi dal foro lo ha evidenziato anche l'ex assessore alla cultura Stefano Marchigiani insieme ad altri cittadini compreso lo storico Luciano De Santis e poi dobbiamo dire che ci sono anche tante associazioni che si sono mosse su questo piano abbiamo i progressisti, il centro studi Vitruviani, l'archeoclub i circoli Gramsci e Pertini insomma veramente ci sono uomini di cultura uomini che amano la propria città ed ora passiamo però alle manifestazioni e agli eventi e ieri l'amministrazione comunale ha reso noto un calendario veramente fornito, veramente ricco di iniziative e questo sarà un ferragosto ricco di manifestazioni ed eventi secondo un programma che inizierà proprio questa sera e si protrarrà fino a domenica prossima quindi fino a oltre il ferragosto questa sera il gran finale della birra d'augusto nell'ex parcheggio dell'area Montevecchio dei pressi della Rocca Malatistiana il villaggio sarà aperto alle 18 con tutte le sue attrattive e terminerà poi a notte inoltrata vediamo poi che la vigilia di ferragosto sarà animata anche a cura della carnevalesca in Sassonia con l'associazione Art Fan Animation diciamo meglio Art Fan Animation per i bimbi l'appuntamento è alle ore 20 nella tensostruttura di Sassonia allestita appunto per così dare un centro di raccolta per tutti i bambini e il titolo di questa manifestazione è Aspettando il Carnevale quindi è fatta anche in collaborazione con l'ente carnevalesca non mancherà la musica in zona Porto con intrattenimento dei DJ e poi giovedì 15 agosto domani ampia scelta musicale e abbiamo anche una musica sacra infatti nella cappella musicale della Cattedrale di Fano la cappella musicale della Cattedrale di Fano alle 21.15 ci sarà un concerto d'orgono a cura dell'associazione musicale Scuola Corale di Fano venerdì 16 agosto in occasione della visita di Papa Giovanni Paolo II ci sarà una rievocazione nella chiesa di Santa Maria del Ponte Metauro dove ci sarà una solenne celebrazione preseduta da Monsignor Filippo Fratelloni vicario generale della Diocesi e poi alle 20 un concerto lirico nel cortile all'interno della chiesa del Ponte insomma veramente ci sono tante manifestazioni tra il sacro e il profano ricordiamo che domani il ferragosto non è solo un giorno così di festa e di vacanza ma è anche una festa importante nel calendario della chiesa è infatti la festa dell'assunzione della Vergine Maria abbiamo poi un'altra apertura dedicata a Fano sul Corriere Adriatico dove vediamo il sindaco Luca Serfilippi a prendere impegno per la realizzazione di grandi opere sono le grandi opere che caratterizzeranno il suo programma per il suo mandato amministrativo un programma che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale nelle sedute di settembre mi prendo un grande impegno ha detto di realizzare il nuovo palazzetto dello sport passando per la riqualificazione del lungomare della nostra città e del centro cittadino ha dichiarato Serfilippi è fondamentale rafforzare il coinvolgimento dei quartieri delle periferie che troppo spesso si sono sentite abbandonate e a questo proposito il sindaco ha fatto i nomi di Sant'Andrea in Villis Carignano Camminate Ronco San Baccio Ponte Sasso Torrette e Metauriglia e poi nell'agenda del sindaco non può mancare la sanità perché insomma è quello che dovrebbe essere tra le la priorità delle priorità in quanto la sanità è una delle esigenze fondamentali della nostra popolazione sappiamo quali sono i difetti dell'assistenza sanitaria e quindi Luca Serfilippi si farà ancora di più da tramite tra le esigenze fanesi e le possibilità di intervento della regione Marche in quanto la sanità spetta è una competenza appunto della regione passiamo a Fossombrone passiamo a Fossombrone dove è stato riparato un portone della chiusa per quanto riguarda il fiume Metauro ebbene era un varco che lasciava passare dell'acqua e quindi depauperava anche la fauna ittica è stato finalmente riparato e quindi questa è una buona notizia vediamo ancora a San Costanzo dove la notizia invece non è buona perché sono accadute dei calcinacci dal cornicione in una zona del corso paura l'altra notte per il crollo vista l'ora però nessuno è rimasto coinvolto un distacco di cornicione è stata transennata la strada paura nel centro storico dove i cittadini hanno notato diversi calcinacci per fortuna non hanno assistito al crollo diversi calcinacci caduti in strada tutto è stato transennato e ieri mattina si è svolto regolarmente il mercato cittadino però non sono mancati i commenti intorno a questa cosa che poteva andare veramente peggio a Pergola invece ha trovato successo il treno storico e le auto d'epoca che hanno fatto il sold out un weekend pieno di turisti e nella città di Pergola dove i bronzi ovviamente svolgono la principale attrazione nel senso turistico ma ci sono anche tante tante altre attrattive come per esempio palazzi e chiese che vengono così inserite in un circuito sul quale il turista può così andare alla scoperta di cose che probabilmente non conosceva ed ora andiamo a Senigallia a Senigallia troviamo delle sorprese per quanto riguarda il costo delle vacanze sono costi piuttosto rilevanti la settimana più richiesta e costosa è quella dopo ferragosto il clou della stagione è da tutto esaurito a Senigallia gli operatori un rialzo record per il trend dopo i primi giorni del mese insomma agosto è cominciato diciamo un po' in sordina poi via via è cresciuto ma è cresciuto repentinamente in maniera in consulta e poi insomma è esploso con dei prezzi veramente che adesso vi elenco allora vediamo un po' ieri nelle piattaforme online una settimana valeva 6.857 euro per una camera doppia in un tre stelle delle lungomare Mameli 9.817 in un tre stelle sulle lungomare Alighieri 9.114 un appartamento fronte mare e addirittura 37.128 euro una casa intera a 200 metri dal mare vedete quante sono un po' altini i prezzi per una vacanza sul lungomare sulla spiaggia di velluto diciamo così ma è un velluto piuttosto oneroso prezzi alle stelle intitola il Corriere cifre fuori in mercato come evidenzia Marco Manfredi presidente provinciale di Federalberghi che spiega il reale listino per i tre stelle che sono i più diffusi gli alberghi più diffusi e poi vediamo invece l'esito di un intervento di un poliziotto che ha dissuaso una donna dal suicidio le ho parlato del figlio e anche un po' di me ho salvato quella mamma dal suicidio si tratta dell'agente De Michele Luigi De Michele 29 anni che racconta la telefonata che ha avuto con questa donna una telefonata lunga che è durata 40 minuti età importante per entrare in empatia ha detto si chiama Luigi De Michele l'agente del commissariato di Senigaglia che il 6 agosto scorso ha salvato una giovane mamma dal suicidio è riuscita a farla desistere utilizzando le parole giuste toccando i sentimenti toccando i lati del cuore e questa donna un po' si è riavuta e quindi si è dissuasa da quello che stava per commettere vediamo anche delle pagine pesaresi dove vediamo il sindaco Biancani che ha fatto da Cicerone e ha aperto insomma Rocca Costanza che è veramente un'attrattiva turistica che non si capisce perché viene resa aperta al pubblico solo in occasione saltuaria Rocca svelata è felice di stupire grande giorno la Rocca non deve essere mai più chiusa ha detto il sindaco Biancani per la prima volta visite allo storico complesso Cicerone il sindaco Biancani e anche il vice Vimini ebbene Rocca Costanza si svela almeno in parte e tanti pesaresi che cercheranno di entrarvi di visitarla ieri mattina la prima visita ufficiale guidata in uno dei gioielli della città pesarese da troppo tempo chiusa al pubblico è stato un po' come il regalo di Ferragosto che il sindaco Biancani ha fatto alla sua città e speriamo che non sia un regalo temporaneo ma che possa essere questo veramente questo caposaldo della storia pesarese ma non solo pesarese di tutta la provincia possa essere veramente visitata e aperta al pubblico lì dentro ci dovrebbe andare anche l'archivio di Stato vediamo altre notizie purtroppo non tutte le rose sono senza spine e dobbiamo dire che la stagione turistica viene resa problematica dalla invasione delle alghe sull'alga un cortocircuito politico ed è scontro tra Vitri e Perrici ebbene ieri c'è stata una presa di posizione dell'avvocata ex candidata sindaco Pia Perrici che ha ritratto una situazione molto nera per quanto riguarda le spiagge pesaresi insomma anche ha fatto delle speculazioni per quanto riguarda la natura delle alghe dicendo che forse sono pericolose e ha chiesto anche analisi supplettive da parte di Arpam Arpam invece è già intervenuta ha fatto i controlli e sembra che secondo l'agenzia che controlla l'ambiente vada tutto bene notizie forvianti e procurato allarme da Perrici sembra che sia la risposta che viene data appunto all'esponente della opposizione l'alga tossica è stata rilevata in Abruzzo da noi nessun divieto di balneazione replica la consigliera regionale Micaela Vitri e poi vediamo ancora la vicenda dell'estradizione del pesarese che è stato imprigionato in Messico c'è un nuovo appello per portarlo in Italia però è un iter lungo che va da tre a sei mesi e soprattutto abbiamo visto ieri come una convivenza con 33 detenuti in uno spazio di 10 metri quadri insomma veramente già di per sé una punizione molto molto forte vediamo anche la pagina di Urbino questa mattina dove vediamo che Michelli il presidente del consiglio comunale di Urbino si pone come garante della democrazia chiedo a tutti di abbassare i toni per attività nuovi arredi e adeguamento informatico sono poi le realizzazioni che Lino Michelli cercherà di realizzare nella civica assise bene abbiamo visto un po' la sintesi del corriere adriatico torniamo ora al resto del Carlino dove l'apertura vediamo si tratta degli scavi archeologici di piazza Andrea Costa reperti interrati in piazza Costa si ascoltano solo i commercianti ci sono anche le esigenze della Fano romana di quella Fano che viene propagandata a livello turistico come un centro d'attrazione importante dell'epoca romana e quindi di origini storiche e poi in realtà si sottovaluta tutto quello che Fano ha e sono molte i siti romani che Fano conserva ma che non sono resi agibili che non possono essere mostrati alla gente ricordiamo ancora l'abbazia la domus di via dell'abbazia e poi ricordiamo tanti mosaici che sono sotto il centro storico che non sono resi visibili e poi quel benedetto teatro romano che è lì che aspetta quell'intervento che possa così permettere a tante persone che desiderano vederlo che possono appunto visitarlo allora strutture per anziani oltre 200 in lista è un ordine del giorno questo che il gruppo consigliare del partito democratico ha presentato in comune sono veramente problematiche le strutture le sono scarse delle strutture di assistenza agli anziani c'è una fotografia che mostra come Fano ha bisogno ancora di nuove strutture della RSA che aspetta da tempo perché poi gli anziani fanesi sono costretti ad andare quelli che purtroppo non possono più restare in famiglia nelle case dei centri dell'entroterra nella Don Tonucci ci sono 30 posti di residenza protetta 26 convenzionati la lista di attesa pensate di oltre 50 persone a Famiglia Nova 60 posti di residenza protetta 51 convenzionati 25 posti di casa di riposo 70 persone in lista d'attesa Alcante di Montevecchio 38 posti di residenza protetta 33 convenzionati 20 posti di RSA sospesi però per i lavori di ristrutturazione e in lista d'attesa ci sono 100 persone allora se sommiamo 100 più 70 più 50 vedete quante persone aspettano un posto in una casa di riposo perché appunto in famiglia o non hanno più nessuno oppure non riescono più a rimanere a Urbino a Urbino nel resto del Carlino campeggia le ultime fasi della festa del Duca campeggiano le ultime fasi della festa del Duca ebbene si parla della Ita questo gioco cruento maschio che viene così organizzato a ricordo di quanto accadeva nel Medioevo un po' tra lotta e gioco insomma questa sera un grande scontro al mercatale sarà presente anche una delegazione spagnola insomma sarà veramente uno spettacolo originale che viene riproposto era un po' l'allenamento che facevano i soldati del Duca prima di andare in battaglia ultimo giorno per la festa del Duca giornata di spettacoli e di sfilate e con questa notizia augurandovi un buon Ferragosto terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento questa volta a sabato prossimo perché domani è festa venerdì i giornali non escono perché i giornalisti hanno un unico giorno di riposo insomma uno dei pochissimi giorni di riposo durante l'anno e noi ci ritroveremo sabato prossimo alle 7 grazie per l'ascolto e a risentirci a per l'anno in a